ciao a tutti Tartamichi benvenuti in questo nuovo video io sono Aldi Stein questa è Tarta Youtube TV oggi come vedete nel mio cappellino sono una nuova avventura della protezione civile di cui come sapete chi mi segue lo sa che ne faccio parte questa volta siamo andati al giro d'Italia tutti stati rivedendo le varie tappe in televisione bene noi siamo in Puglia siamo andati alla tappa di albero bello sappiate che non non sentire molto la mia voce che parla comunque che non ho proprio bloggato quando sto in servizio non posso bloggare quindi vedrete anche altre avventure in futuro con la protezione civile ma difficilmente bloggerò se riesco benvenga però il servizio è difficile perché devo stare attento ad altre cose mentre sto filmando devo stare comunque attento alla sicurezza delle persone quindi sono in servizio per quello non è che posso cingeschiare più di tanto cerco di portarvi con me nel limite che posso ma non perdiamoci più in chiacchiere passo a far vedere il video ho fatto alcune riprese di quando sono arrivati quando mi sono passati davanti i ciclisti non ero proprio all'arrivo io ero un chilometro dall'arrivo quindi non vedrete tagliare il traguardo forse c'è un V no non vedete tagliare il carosello delle macchie di sponsor che è molto bello da vedere quindi basta chiacchiere mi lascio al video quindi sigla occhio occhio attenzione ehi forza no 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 vedi, vi passerò fra un pochino quando vedi l'avanti c'è un altro la rosa è qui è quella è quella è la festa ufficiale del Fino d'Italia Senti il calore ragazzi, è bello, lo sento, lo sento, ma tutto lo vedo Non è vero, è vero, è vero, è vero Lorenzo ma che frega Senti scusa Non si può passare adesso Non si può passare Non si può passare Il centesimo giro d'Italia Non si può passare 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' eccoci qui tartamici, spero vi sia piaciuto questo video della serie Le Mirabolanti Aventure della Protezione Civile con Aldi Stein. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.